Buongiorno a tutti, una nuova puntata di Terrazza Incontro. Oggi sono particolarmente lieto di avere nostro ospite l'Onorevole Raffaella Paita, Presidente della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati e diciamolo subito per tutti gli ascoltatori è cambiato il governo ma non cambiano le commissioni quindi l'Onorevole Paita resta un punto di riferimento per la Liguria estremamente importante. Poi Raffaella Paita ha fatto molte cose sempre legate al mondo dei trasporti quindi è un bene che sia in una commissione che può e che è determinante per il futuro della nostra regione ed è di Italia Viva quindi il partito che io ho ringraziato in un articolo come l'ho criticato delle volte non posso scordare che quando definì Italia Viva Italia Morta sul sistema autostradale il Presidente Renzi si arrabbiò molto con me però altrettanto io ritengo di essere una persona onesta intellettualmente io ho ringraziato pubblicamente Renzi per aver fatto cadere un governo che ha portato alla nomina di Draghi e questo secondo me lui lo sapeva dal primo minuto non credo che fosse che sia stato un caso è così Raffaella Paita? Non so se sapesse dal primo minuto che sarebbe stato Draghi a succedere a Conte sicuramente Renzi fin dal primo minuto ha lavorato per mettere in luce quello che non funzionava nel precedente governo e tra le cose diciamo che non andavano sicuramente la cosa più importante è la pianificazione di come avrebbero dovuto essere utilizzati 209 miliardi che l'Europa ci darà per sostenere il paese in un momento di profonda crisi come quello che stiamo vivendo. Quindi è stato un problema principalmente di discussione di come si spendevano questi soldi? Conte diciamo che voleva spendere un po' come voleva lui senza ascoltare i consigli dei partiti? Conte da prima ha messo insieme una squadra diciamo di tecnici nominati da lui aveva questa intenzione quindi senza confronto parlamentare per l'utilizzo di queste risorse così importanti per il paese ma soprattutto era l'impianto del recovery plan che non funzionava non c'erano progetti convincenti in grado di rilanciare crescita e sviluppo e siccome noi siamo convinti che questo paese non possa vivere di reddito di cittadinanza che è poi anche un po' un reddito di sudditanza ma di lavoro, di crescita, di produzione era chiaro che quella partita sarebbe diventata fondamentale per la possibilità concreta che il governo andasse avanti. Renzi ha avuto grande coraggio e ha ottenuto un risultato che tutto il paese a questo punto riconosce come essere un punto di equilibrio. Io lo condivido personalmente e sono molto contento che ci sia Draghi non dico che sia un bene che non ci sia Conte, non mi interessa sono contento che ci sia Draghi e questo governo tecnico perché avendo già fatto una legislatura pensavo che fosse la peggiore di quella che storicamente avessimo avuto ma sinceramente visto il livello del Parlamento di questa legislatura mi sembra giusto che cambiamo registro e che andiamo sui tecnici ma verrà tolto il reddito di cittadinanza? Non so se verrà tolto anche perché in questo momento comunque con la crisi che c'è strumenti di sostegno diciamo sono anche indispensabili il punto è riformare il meccanismo del reddito di cittadinanza legarlo alla reale possibilità che le persone vengano ricomprese nel mercato del lavoro ma soprattutto creare occasioni di crescita faccio degli esempi concreti se dentro il Recovery Fund ci saranno opere che per quanto riguarda la Liguria parlo per esempio del tema della Liga Forania saranno in grado di rilanciare la portualità nella nostra regione è del tutto evidente che probabilmente nei prossimi anni avremo meno bisogno di reddito di cittadinanza avremo più occasioni di crescita e di emancipazione delle persone attraverso il lavoro e la propria realizzazione personale che è quello che una persona come dire riformista deve immaginare e sperare per la propria regione e per il proprio paese io credo che Draghi per il suo prestigio internazionale per la visione dinamica dell'economia per quello che ha dimostrato di saper fare in Europa nell'interesse del nostro paese sia la migliore delle garanzie che possiamo avere di fronte nei prossimi anni è arrivata oggi da Spezia lei? si si è fermata in una piazzola per quanto? perché magari non c'era traffico quindi magari è stata ferma un'ora quanto per prima di arrivare da noi? ho driblato il problema venendo in treno non che i treni siano diciamo mezzi che funzionano benissimo nella nostra regione ma in questo momento sicuramente meglio delle autostrade e questo è un tema grosso che dobbiamo affrontare la situazione è veramente drammatica per quanto riguarda il sistema autostradale devo dire che io ieri tornavo da Via Reggio perché potevo esserci per un motivo sportivo ma ho trovato un'autostrada veramente libera perché autostrade assa che deve mettere le corsie uniche quando passiamo in zona arancione o addirittura rossa quindi l'autostrada ieri era libera ma era domenica oggi l'autostrade, il primo canale ha documentato tutta la mattinata è stato un disastro, è partito un momento drammatico di nuovo quanto durerà questo momento per la Liguria? temo tanto e temo che sia anche sbagliato raccontare ai cittadini che a breve si risolverà ogni tanto viene qualche ministro che lo racconta o qualche presidente di regione che dice che le cose miglioreranno non miglioreranno se non ci sarà una capacità di programmazione delle infrastrutture convincente nei prossimi anni il primo tema che secondo me dovrà essere affrontato è la richiesta di un investimento molto forte in nuovi tratti di Aurelia Bis perché nella nostra regione se non passi dall'autostrada non passi da nessun altro tipo di strada perché non ci sono, semplicemente non ci sono non sono state realizzate siamo una porzione di territorio molto limitato con problemi enormi sotto il profilo ambientale e di tenuta del territorio però quei tratti di Aurelia Bis vanno realizzati il secondo tema è se non si sbloccheranno delle opere fondamentali come quella della Gronda che per tanto tempo governi diciamo di centrodestra con il Movimento 5 Stelle governi di centrosinistra con il Movimento 5 Stelle hanno comunque arenato però io su questo mi permetto? l'avrei anticipata se mi permette perché so che lei pone sempre una questione che si chiama transizione ok? bravissima che è come gestiamo diciamo la fase di transizione nel momento in cui comunque quest'opera non ci sarà io la direi così intanto mettiamo in cantiere il fatto di farla l'opera e decidiamo che a quell'infrastruttura non ci si rinuncia questa volta con parole molto chiare e non con giri di parole mezza Gronda un quarto di Gronda Alotti la Gronda o si fa tutta non ha senso e gestiamo la fase transitoria con una politica di trasporti che potenzi diciamo i treni dove si può e come dire gestisca l'emergenza esattamente un po' diciamo con le proposte che lei ha avanzato in più di un'occasione insomma che quest'emittente ha avanzato anche dando voce a una categoria quella dell'autotrasporto che in questi anni è stata massacrata da un'inefficienza infrastrutturale che è un prezzo altissimo che paghiamo da tanto tempo quindi ci sono tutte e tre le questioni investimenti sul futuro Aurelia Bis ma anche diciamo gestione transitoria fino a quando non avremo queste nuove infrastrutture Io condivido che si debba trovare la soluzione specialmente a breve termine nel senso che comunque tutti cittadini operatori economici sistema portuale non possono in alcun modo andare avanti in questo modo e dall'altra parte ma io rivedo veramente come due cose totalmente distinte invece si deve andare avanti sulle nuove infrastrutture Un attimo di pubblicità e poi iniziamo con le domande dei nostri ospiti Aurelia Bis ma anche